Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. In apertura non possiamo che parlarvi del drammatico avvenimento di oggi a Genova, di quanto accaduto in tarda mattinata il crollo del ponte autostradale Morandi, una tragedia che tocca tutti perché sarebbe potuta capitare a ognuno di noi, in particolare in questo periodo di spostamenti per le vacanze. Non poche famiglie versilesi sono passate da quel tratto solo poche ore prima, anche meno di un'ora prima del crollo. Su Facebook in queste ore si raccolgono varie testimonianze e racconti di versilesi che soltanto per fortuna hanno scampato il pericolo. La Toscana si è subito mobilitata per gli aiuti. Il presidente Enrico Rossi ha annunciato che la regione è a disposizione per ogni necessità. L'assessore alla sanità Stefania Saccardi ha detto che la Toscana è pronta a partire con il posto medico avanzato che vede integrati anche specialisti del Meier e che sono a disposizione ambulanze e personale sanitario del 118. Qua vediamo le immagini dei vigili del fuoco proprio sul luogo del disastro. sta sorvolando proprio il ponte autostradale, il viadotto Morandi. I vigili del fuoco hanno subito inviato personale specializzato dai comandi toscani di Pistoia, Prato e Livorno e da Firenze. Arrivati a Genova anche un autogru del comando di Massa Carrara, un'autoscala da Pisa, l'elicottero Drago dal nucleo di Arezzo. Purtroppo, come ben sapete, l'emergenza è ancora in corso. è in corso anche la conta dei morti, purtroppo è ovviamente quella dei danni. Il traffico tuttora è in tilt paralizzato nel capoluogo Ligure alla vigilia del Ferragosto, ma ci sono anche inevitabili conseguenze, seppure ovviamente di minore portata anche per il nostro territorio. Pensate ai collegamenti lungo la costa tra chi dal nord si sposta verso la Versilia e viceversa, dunque si consigliano percorsi autostradali alternativi per proseguire in direzione 20 miglia, dunque vengono segnalati altri percorsi autostradali come quello della Cisa e poi attraverso il nord Italia. Ci fermiamo qua con il resoconto su quanto accaduto, che poi ovviamente resta in primissimo piano sulla cronaca nazionale. Adesso veniamo invece ad un'operazione antiprostituzione che ha visto arresti e altre misure cautelari tra la Versilia, Pisa e Livorno per lo sfruttamento di prostituzione transessuale. Un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Pisa per il contrasto alla prostituzione ha portato in mattinata all'arresto di 4 persone e all'esecuzione di altre misure per altri indagati, per i quali è scattato l'obbligo di dimora. L'inchiesta è per associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione. Le misure cautelari sono state eseguite a Pisa, Viareggio, Massarosa e Livorno al termine di un'indagine durata circa due anni che ha fatto emergere un importante circuito economico basato sullo sfruttamento di circa 30 transessuali brasiliani costretti a prostituirsi in strada a Pisa e a Migliarino, nella zona che collega Vecchiano a Torre del Lago. Gli sfruttatori erano altri transessuali brasiliani che insieme ad alcuni italiani hanno goduto di un flusso di denaro di alcune centinaia di migliaia di euro all'anno grazie all'organizzazione di viaggi, alla predisposizione delle case per ospitare l'attività di prostituzione e grazie allo sfruttamento del lavoro dei viados. A Lido di Camaiore il sindaco del Dotto ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente di sgombero per motivi igienico-sanitari per sovraffollamento di un alloggio a Lido sul viale Colombo. Siamo a due passi dal mare. L'immobile di proprietà di un cittadino italiano è locato a un cittadino originario del Bangladesh. Ospitava, pensate, 22 persone pur possedendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge per un numero massimo di 7 persone. Il provvedimento dispone pertanto all'allontanamento entro 48 ore degli occupanti eccedenti dai 7 che sono ammissibili. Episodi come questo portano a riflettere su situazioni umane e private anche della benché minima dignità, commenta il sindaco del Dotto. Peraltro pur con dinamiche che dovranno essere indagate e chiarite da parte dell'autorità giudiziaria, situazioni come questa rischiano di incentivare il supporto logistico non legale a fenomeni di illecità. E dunque è stato stroncato questo fenomeno. Veniamo adesso al Ferragosto e al Ponte che è partito purtroppo con il maltempo, temporali e piogge. All'erta meteo che si è conclusa alle 18 di questo lunedì. Si spera però nel sole e nella folla di turisti per il giorno di Ferragosto. Sentiamo. Spero meglio. Speriamo che Ferragosto senza sole è bruttino. Speriamo meglio. Speriamo i fedelissimi di via Reggio. Inutile nasconderlo. Tutti quanti sono con il naso all'insù in Versilia nella speranza che le previsioni neanche stavolta sbaglino. L'ondata di maltempo annunciata è durata appena 24 ore e secondo i meteorologi lascerà la costa in poche ore favorendo un Ferragosto caldo e soleggiato. Temporali, anche di forte intensità, con allerta meteo arancione, si sono abbattuti nella notata di lunedì senza però provocare danni di rilievo alle strutture balneari e alberghiere né disagi particolari. Nella mattinata della vigilia di Ferragosto le spiagge a via Reggio sono però deserte e appesantite da un cielo grigio e piovoso. E ai tanti, ma non tantissimi, turisti presenti non rimane che il consueto giro in passeggiata in attesa che il sole torni a splendere. Mi che è male, c'è gente un po' per tutto. Il tempo così è così? Eh, il primo giorno, una settimana siamo qua noi, il primo giorno è così. Per il giorno di Ferragosto cosa farete? Ah non lo so, adesso vediamo se è bello. Ma noi siamo lì a Lido di Camaiore però, allora oggi siamo venuti qua, adesso andiamo a Forte dei Marmi, bellissimo però, è la prima volta che vengo. Dove siete? Brescia, perché di solito andiamo sempre giù di là, sull'Adriatico, così. A Firenze. Venite spesso qui in Versilia? Tutti gli anni. Quest'anno che le sembra? Mi sembra ci sia un pochino meno persone, sinceramente. Sì, almeno per ora, magari la concentrazione a Ferragosto ci sarà, però per ora non come gli anni precedenti. Noi si va al mare, in spiaggia, prendere il sole, fare il bagno, basta, poi ci godiamo gli ultimi giorni. Dove venite? Milano. È la prima volta a Viereggio? Viereggio sì, Versilia no. Il giorno di Ferragosto cosa avete in programma? Relax, prenotato il pranzo domani a mezzogiorno, passeggiare, pranzo, riposare e rivolgere. E mare sperando nel sole? Eh, certo, certo. Andiamo al mare anche senza sole. Resteranno aperti i musei il giorno di Ferragosto a Viereggio, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Villa Paolina, il Museo della Marineria dalle 18 alle 23, saranno visitabili, lo fa sapere il comune di Viereggio, alla Gamca in corso di segni e di sogni, personale di Antonio Possenti, aperta per sei mesi. Tre esposizioni invece a Villa Paolina, come la mostra, magnifiche presenze. Ancora per la politica a Viereggio, torniamo alla politica, Forza Italia ribadisce la propria posizione alla opposizione del sindaco Giorgio Del Ghingaro, nonostante l'approvazione, il voto a favore dell'ultimo regolamento urbanistico, dell'ultimo Consiglio Comunale. Sentiamo. Il voto a favore del regolamento urbanistico, targato Del Ghingaro, approvato la scorsa settimana, non è una prova d'intesa politica con il sindaco. Lo aveva detto subito il capogruppo di Forza Italia, Alessandro Santini, in Consiglio Comunale, prima di votare il testo, insieme al Partito Democratico e alla maggioranza del Ghingariana. A ribadire la linea del partito, adesso è Atos Pastechi, portavoce per Viereggio e Camaiore. Noi abbiamo avuto un incontro col sindaco, secondo me un bel incontro, un incontro intelligente, che il sindaco ha chiesto a Forza Italia un ampio voto per il regolamento urbanistico. Il nostro ex assessore Bucciarelli ha in tutte le maniere assistito, che è stato il promotore, perché è stato anche quello che conosceva il regolamento urbanistico, meglio di tutti perché l'aveva fatto, è venuto, ha proposto delle cose al sindaco insieme al nostro capogruppo Santini e a questo punto qui abbiamo votato il regolamento urbanistico e voteremo tutte quelle cose che il sindaco ci proporà che facciano del bene alla città. Vediamo la terrazza della Repubblica, vediamo la piazza Cavour, che è un po' importante, dove ci sono anche lì dei commercianti che soffrono l'asse di penetrazione, il porto, quelle cose che fanno bene a Viareggio, perché dobbiamo dire di no perché l'ha detto un altro? Ma ci mancherebbe. Certamente noi rimaniamo all'opposizione perché la nostra città ha ritenuto che noi siamo all'opposizione, rimaniamo all'opposizione e voteremo mano a mano che le cose saranno fatte. Andiamo adesso alla Versiliana, negli incontri al caffè, c'è stato l'atteso incontro con Giorgio Mendella, imprenditore telefinanziere, molto conosciuto per le sue vicende tra gli anni 80 e 90, ha raccontato la sua verità, quella che ha riguardato il suo arresto. Sentiamo allora il nostro servizio. Il sogno a lungo rincorso di parlare in pubblico dell'ex telefinanziere Giorgio Mendella, lombardo di nascita ma via regina d'adozione, si è avverato lunedì pomeriggio, ospite del caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta, intervistato da Claudio Sottili, per anni suo collaboratore nell'emittente televisiva Rete Mia. L'ansia di parlare o di esibirsi di fronte a un pubblico non è mai stato un problema per Giorgio Mendella, che dopo 28 anni di assoluto silenzio, al caffè che fondò il giornalista Romano Battaglia, ha ripercorso con piglio e precisione le tappe fondamentali dei suoi successi, arrivati fra gli anni 80 e 90, e le vicende che lo portarono alla fine dell'impero da lui creato. Cosa successe e perché la magistratura fermò il telefinanziere? Io sono stato fermato probabilmente perché era un'epoca molto particolare, era il passaggio fra una vecchia repubblica molto corrotta e una nuova repubblica un po' meno corrotta, e ci furono molti colpi di coda, tentativi di acquisire maggior potere in diversi settori, soprattutto in settori finanziari, e alcuni di questi soggetti, poi arrestati per corruzione, credo che si possa dire tranquillamente, perché sono stati arrestati per corruzione, fecero delle fortissime pressioni affinché la magistratura si muovesse. Poi ripeto, la magistratura intervenne, intervenne con un'azione eclatante, cioè fermare il nostro gruppo in un modo così eclatante era qualcosa che avrebbe scatenato in mass media. Infatti ci fu una eco stampa gigantesca, sia a livello di telegiornali nazionali, ma parlo di mesi, sia a livello di stampa, e qui parlo di anni. Vi ricordo naturalmente che gli incontri al Caffè della Versiliana anche quest'anno sono trasmessi ogni sera su Noi TV a partire dalle 21. E adesso invece andiamo al Centro Storico a Pietrasanta per mostrarvi queste immagini, il carillon vivente nel centro tra romanticismo e fantasia. I più lo avevano potuto ammirare solo in televisione, X Factor, nei video di Mika e Fedez, e invece si è manifestato anche in Versilie, proprio in Piazza del Duomo, e via di mezzo. Una performance a sorpresa è quella del famosissimo spettacolo itinerante promosso, in questo caso, dall'amministrazione comunale per rendere più affascinante e magica l'atmosfera del centro. Il carillon vivente, frutto della genialità dell'artista Mauro Grassi, si è esibito in 24 nazioni e ha messo in scena oltre 600 spettacoli. Lo show è piaciuto molto, spiega Andrea Coscia, assessore agli eventi. Stiamo già cercando un'altra data per portarlo in città, magari durante il periodo natalizio. questo è l'obiettivo del comune di Pietrasanta. Un'esibizione, la vediamo in questa immagine, accolta con apprezzamento dai turisti ed ai frequentatori del centro, sorpresi dal passaggio di questo magico carillon vivente. A Forte dei Marmi adesso dove prosegue? Prosegue la Marguttiana, Marguttiana Arte, 56esima edizione, toccherà il suo culmine proprio questa settimana, manifestazione patrocinata dal Comune e dal Museo Guo Guidi. La conclusione sarà la serata della cena sotto le stelle, sabato 18 agosto alle 20, nella centralissima via Pascoli. Una cena a cielo aperto dedicata quest'anno al fondatore Carlo Carracci. Saranno i pittori e espositori provenienti da tutta Italia, ma anche ospiti come Gianmarco Puntelli, critico d'arte di fama internazionale, e il grande pittore via Regino, Giorgio Michetti, che con i suoi 105 anni continuerà con un contributo straordinario alla seconda arte. Sarà il momento più bello di quest'estate della 56esima edizione della Marguttiana. Annullati invece tutti gli spettacoli di Alcatraz, il grande spettacolo Circenze, ospitato alla Cittadella del Carnevale, doveva andare avanti fino al 27 di agosto, iniziato lo scorso, 3 agosto, vedeva tra le guest star in alcune serate anche il comico livornese Paolo Ruffini. Decisione, quella di annullare tutte le date rimanenti, presa dopo 10 soli giorni di programmazione per motivi tecnici e logistici. Ci fermiamo per la pagina di Cronaca, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del nostro telegiornale. Ben ritrovati, eccoci alla pagina sportiva e partiamo con l'appuntamento classico per il Ferragosto in tarda mattinata è previsto l'arrivo in Piazza Mazzini della tradizionale corsa ciclistica Firenze-Mare. Sentiamo. Tradizionale appuntamento sulle due ruote per il giorno di Ferragosto con la Firenze-Viareggio classica riservata all'elita Under 23 di ciclismo che mantiene il suo affascinante tracciato per quasi 140 km con le salite di Serravalle Pistoiese, Vico, Gorealo, Prunetta, Monte Oppio fino a raggiungere la Valle del Serchio e Sesto di Moriano. Da qui la modifica per raggiungere con la corsa Monte San Quirico, Sant'Alessio, Ponte San Pietro, il breve dislivello del Monte Quiesa e quindi Massalosa per affrontare poi la salita del Pitolo a 14 km dal traguardo per poi arrivare in Piazza Mazzini intorno come sempre a mezzogiorno. In tutto 181 km e mezzo con partenza da Firenze alle 7.30 e conclusione come detto all'ora di pranzo non sarà tracciato anche in questa edizione il comune di Camaiore. Un appuntamento importante per quanto riguarda il ciclismo con i dilettanti che hanno sempre visto una grande partecipazione di pubblico sul viale a mare di Via Reggio. Il comune Via Reggino ha voluto fortissimamente il ritorno di questa classica qua sul territorio comunale dopo che era emigrata per un'edizione. Quindi senza dubbio molta attesa per questa classica Firenze-Via Reggio. E subito dopo il ferragosto un altro appuntamento tradizionale dell'estate il trofeo San Rocco ormai arrivato all'ottava edizione una corsa podistica Pozzi-Querceta. Sentiamo. Edizione numero 8 per il trofeo San Rocco gara podistica Fidal in programma giovedì 16 agosto a Pozzi. Attesi al Via dai 300 e 400 atleti provenienti da tutta la Toscana e da diverse altre regioni italiane. Il circuito stradale 4.550 metri da ripetere si snoda in una delle zone più caratteristiche della Piana Quercetana correndo per un breve tratto anche sull'argine del fiume Versilia. La gara quinta delle nove prove del campionato podistico della Versilia e quarto memore al Giuliano Giannotti è organizzata dall'atletica Pietrasanta Versilia in collaborazione con la Contra del Pozzo e con il supporto del comune di Seravezza. Ritrova alle ore 16.30 presso gli stand della Saga Gastronomica della Contra del Pozzo alle ore 18 il mini percorso ludico per i bambini da 0 a 15 anni e alle ore 19 la corsa competitiva affiliata alla Fidal e la marcia ludico-motoria aperta a tutti. Una corsa che è nata diciamo così dalla volontà della Contra del Pozzo che nel corso degli anni grazie al sostegno del telecapitale della Santa Versilia del comune e del coni è riuscita a raggiungere già numeri importanti e anche come diciamo così un volano turistico è riuscita a raggiungere circa 400 partenti. Il nuoto adesso Lorenzo Biancalana appena laureatosi a Roma campione italiano cadetti nella gara dei 1.5 metri con il fantastico tempo di 15.23.62 è stato ricevuto dal sindaco di Massarosa Franco Mungai e dal consigliere delegato allo sport Raffaello Giannini Lorenzo classe 99 uno dei nuotatori della società tirianica nuoto si è allenato dopo la chiusura della piscina di Viereggio in questi ultimi due anni nell'impianto di Massarosa Lorenzo e i tecnici hanno voluto così ringraziare l'amministrazione e la società acquatica per l'accoglienza e la grandissima collaborazione in questo periodo che ha permesso di allenarsi al meglio il calcio adesso e sentiamo il programma delle amichevoli delle formazioni versiliesi in queste ultime settimane di estate prima del ritorno ai campionati settimana di amichevoli per il calcio dilettantistico versiliese lunedì c'è stato il confronto tra il San Marco Avenza e il Pietrasanta invece in programma martedì dopo aver visto Viereggio Camaiore sabato al Cavanis con 3 a 3 nel risultato finale alle 18 al Necchi Balloni di Forte De Marmi va in scena il confronto tra il Real Forte Querceta e il Camaiore passato il Ferragosto le grandi amichevoli torneranno ancora una volta di scena sabato pomeriggio Viareggio 100 un triangolare molto importante alle 18 allo stadio di Camaiore tra i Bolo Amaranto locali il Viareggio e la formazione del Pisa di Serie C per ciò che riguarda sempre sabato 18 anche il Forte Querceta di Carlo Bresciana alle 17.30 riceverà al Necchi Balloni la Pistoiese c'è poi il programma del 19 di domenica dove il Seravezza Pozzi giocherà alle 17.30 alla Porta Elisa contro la Lucchese e poi domenica prossima il 26 inizierà la Coppa Italia con il derby tra Real Forte Querceta e Viareggio al Necchi Balloni alle 16 e allo stesso orario il Seravezza Pozzi riceverà il Ponzacco al Buon Riposo è tutto anche per lo sport tra poco la terza parte del TG Noi Versilia ben ritrovati terza parte del nostro telegiornale non ci sono aggiornamenti di cronaca prima di salutarci lo spazio consueto degli auguri questa sera auguri di buon compleanno alla piccola Rebecca che festeggia quattro anni arrivano gli auguri da mamma papà la cuginetta Chloe i nonni e tutti i parenti è davvero tutto per questa edizione vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti